Il cuore della città continua a essere sofferente per quanto riguarda il commercio. La chiusura all'inizio dell'anno del negozio del noto punto vendita spagnolo d'abbigliamento ha inflitto un duro colpo all'attrattività della zona e al richiamo di giovani e non solo. Sembra che il nuovo arrivo, che aprirà in autunno una catena tedesca, offra dai prodotti per la bellezza e il benessere della persona ai dispositivi medici, oltre ad articoli per l'infanzia e per la cura della casa. Ma le chiusure non si arrestano. Non è una bella immagine vedere i negozi e il centro dove il cuore pulsante di Cremona, negozi chiusi. Ci si chiede se si tratti di una scelta idonea. Noi ce l'auguriamo che sia la scelta giusta e mi auguro che l'amministrazione ponga un occhio di riguardo per quel che riguarda le prossime aperture. È auspicabile che ci sia veramente interesse, che sia un polo attrattivo. Il centro però, sia per i cremonesi che per i turisti, resta spoglio e triste. Mi auguro che l'amministrazione faccia le dovute considerazioni riguardo alle future attività che potrebbero o qualche modo magari incentivare attività che potrebbero essere di largo interesse per tutti i cittadini di Cremona. Anche negli spazi in corso Vittorio Emanuele pare ci sia movimento e si ipotizza che la zona potrebbe essere occupata da un grande gruppo cinese. La stessa domanda alla giroamministrazione. vediamo di incentivare un pochino quello che è il nostro anno, insomma qualcosa che a noi serve senza lasciare spazio, diciamo quella grossa distribuzione che lascia sempre qualche domanda. Magari la scelta potrebbe cadere su qualcosa di ricercato, qualcosa che ancora non c'è, magari sostenendo il locale. Le decisioni da prendere riguardano l'amministrazione. Noi possiamo dare qualche suggerimento, tant'è che adesso attualmente non sappiamo ancora niente, non siamo neanche coinvolti in certe decisioni, però è chiaro che l'amministrazione dovrebbe pensare a qualcosa di effettivamente accattivante. Ci vorrebbe sì lungimiranza, anche perché si è parlato anche banalmente di questi spazi di giovani locali, qualcosa che potrebbe essere attinente al centro, l'attività del centro, l'attività ludica creativa del centro. Qualcuno faccia qualcosa a questo punto.